Parli bro, ecco tre difetti delle persone che abitano con te Tre difetti delle persone che abitano con me Eh ok, essendo che sono letteralmente tre, ne dico uno per ciascuno Mario pretende che gli altri siano allegri e mette davanti la sua allegria, è pretenzioso Infatti amo quando torno a casa e dice mi hanno insultato in bus perché li devo Eh, che detta così sembra una pin-up, no? Il disegno di Mario che sta così, col telefono sul bus e la gente fa stronzo No, enorme figlio di puttana della brozzatura davvero 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 sospetta No, io so cosa è successo, io so che tu ridi al bus proprio come ridi davanti alla caccia di telecamera in live C'è gente che vuole solamente andare a casa per fare un cappio al colle ed ammazzarsi E tu lo stai facendo tornare in vita No! Lascia stare Perché io se vado davanti a qualcuno e faccio Come stai? Se lui sta male, io gli ho negato questa risposta Non può più rispondermi così Quindi questo è il difetto di Mario Il difetto di mio fratello Ha, necessita mio fratello di tante 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 conferme prima di essere convinto di una sua cosa Quindi è l'insicurezza Lo è sempre stata Ma vi posso dire la mia? Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti quelli nuovi che stanno mandando i primi messaggi Vi amo, dovreste farlo più spesso, tutti quanti anche Io leggo tutti quando leggo Cioè quando leggo, leggo chi capita E chi capita è tutti, no? Chi capita è tutti Grazie Dario sei un mostro che crea mostri e basta No, Mario è sempre stato così Non diamo la colpa a Dario Di un trono che effettivamente detiene Mario Lascia perdere Mario è sempre stato così Si è sempre lamentato di gente che gli dice Sta ZITTO E non sta zitto Quindi mi fratello di insicurezza E vi stavo dicendo Molto migliorato Molto, molto, molto migliorato E non perché gli ho rotto la testa Ma perché si sta vivendo questa città Si sta dando da fare Sono molto contento per lui Daniele Non ha Daniele è incredibilmente empatico su alcune cose Zero su alcune Cioè, avevo letto questo libro che parlava del Dell'empatia Dell'intelligenza empatica Nel senso che Daniele non ha l'intelligenza empatica Nel senso non Riesce per niente a mettersi nei panni di qualcuno Che Per cui il mondo funziona diversamente Ok? Se io ho un modo di vedere le cose diverso dal suo E quindi magari dal suo Al suo primo acchitto negativo Non riesce a empatizzare con me Ma nel senso che Si mette un muro davanti E non ci riesce Quindi Questo contrasta anche con la sua enorme intelligenza E intuito E vorresti accoltellarlo Questo secondo me è anche il motivo Biscerale E non spiegato bene Che la gente dà quando Gli sta sul cazzo Daniele E' questo qua E' questo qua Ehm Ehm